Tirocini, ricerca, trasferimento tecnologico, formazione. Sono questi i punti di forza dell'intesa raggiunta tra l'Università degli Studi di Teramo e in particolare la Facoltà di Scienze della Comunicazione con il CONAD Adriatico. Una tale sinergia Ateneo-Impresa diventa così uno strumento prezioso di sviluppo socio-economico sia per le aziende di calibro nazionale come il CONAD sia per gli studenti di Unite che faranno esperienze formative di alto livello professionale già durante il loro corso di studio. Concretamente per gli studenti di Unite cosa avverrà grazie al CONAD? Allora, innanzitutto noi metteremo a disposizione la nostra azienda per fare esperienze stage formative all'interno dell'azienda, di CONAD Adriatico come CONAD in generale, quindi voglio tutta la comunicazione che facciamo a livello nazionale e così via, quindi la possibilità di prendere delle idee, di partecipare a dei team di progetto per poter scambiare opinioni, quindi anche conoscenze delle migliori agenzie nazionali da questo punto di vista. Poi noi, voglio dire, abbiamo l'opportunità attraverso sempre questo rapporto di poter far partecipare dei nostri collaboratori a delle attività universitarie innovative per quanto riguarda il discorso della comunicazione, quindi dovrebbe essere un interscambio molto formativo e di grande interesse per tutte e due. L'obiettivo che l'Università di Teramo punta a raggiungere attraverso l'intesa di collaborazione con il CONAD Adriatico sarà quello di un interscambio tra capitale intellettuale e mondo economico, con importanti vantaggi per entrambi. È l'inizio di un rapporto che prevede sia percorsi formativi che percorsi di ricerca e di trasferimento tecnologico. Avvicina sempre di più l'Università di Teramo al mondo produttivo e a quello che chiamiamo terza missione. Un'occasione ovviamente per l'azienda che potrà utilizzare le nostre competenze ma anche e soprattutto per noi, per i nostri studenti che vedranno i loro percorsi formativi più collegati con aspetti pratici. Quindi direi una relazione a 360 gradi ma anche e soprattutto poi il trasferimento della ricerca, quindi il trasferimento tecnologico per migliorare poi le performance economiche anche delle aziende.